In Israele si va verso un governo di unità nazionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus e il corrispondente Raffaele Genà. Alla fine dal cilindro è spuntata la soluzione meno prevedibile anche se la più quotata. Dopo un anno di elezioni e ripetizioni, di trattative senza sbocchi, la fine dell'interminabile crisi di governo ormai imminente. Alla guida dell'esecutivo di unità nazionale in un momento di grande emergenza per il Covid-19 con orizzonti economici preoccupanti sarà ancora Netanyahu che ottiene un altro risultato. La spaccatura del partito blu e bianco di Gans. Se ne va sbattendo la porta Iair Lapid, l'alleato che col suo gruppo aveva dato vita un anno fa alla coalizione. La svolta che ha colto tutti di sorpresa è stata la nomina temporanea di Gans a presidente del Parlamento. Di qui lo strappo perché a votarlo sono stati solo i deputati del suo gruppo di origine e quelli di destra e i laburisti. Da questo scranno ora Gans tratterà con Netanyahu che cercherà di blindare l'accordo soprattutto per quanto riguarda la staffetta come primo ministro prevista fa 18 mesi. Al suo partito dovrebbero andare la difesa, gli esteri e soprattutto la giustizia nel momento in cui Netanyahu deve affrontare il processo. All'accusa di tradimento che gli rivolgono gli ormai ex alleati, Gans fa sapere che da vecchio soldato si è arruolato per la nuova guerra nemico invisibile. Il quadro uscito dalle urne si scompone profondamente e da questo scossone uscirà ridisegnata l'intera politica israeliana dei prossimi mesi.